Che cravatta hai indossato? Che macchina hai comprato? A che giornale ti sei abbonato? A che giornale ti sei abbonato? Chi mi gördünüz? Chi ha visto? Chi me rastladınız? Chi ha incontrato? Chi mi tanıdınız? Chi ha riconosciuto? Chi ha riconosciuto? Ne zaman kalktınız? Quando si è alzato? Ne zaman başladınız? Quando ha cominciato? Quando ha cominciato? Ne zaman bıraktınız? Quando ha finito? Quando ha finito? Niçin uyandınız? Perché si è svegliato? Niçin öğretmen oldunuz? Perché è diventato insegnante? Perché è diventato insegnante? Niçin bir taksiye bindiniz? Perché ha preso un tassi? Perché ha preso un tassi? Nereden geldiniz? Da dov'è venuto? Da dov'è venuto? Nere ye gittiniz? Dov'è andato? Dov'è andato? Nerede idiniz? Dov'è stato? Dov'è stato? Kim'è yardım ettin? Chi hai aiutato? Chi hai aiutato? Kim'è yazdın? A chi hai scritto? A chi hai scritto? Kim'è cevap verdin? A chi hai risposto? A chi hai risposto? Ci cekli re sulla mamma mızgeri kiordo. Abbiamo dovuto innaffiare i fiori. Abbiamo dovuto innaffiare i fiori. E vi toplamamız gerekiyordu. Abbiamo dovuto mettere in ordine l'appartamento. Abbiamo dovuto mettere in ordine l'appartamento. Bulaşıkları yıkamamız gerekiyordu. Abbiamo dovuto lavare i piatti. Abbiamo dovuto lavare i piatti. Faturayı ödemeniz gerekti mi? Avete dovuto pagare il conto? Giriş ödemek zorunda kaldınız mı? Avete dovuto pagare l'ingresso? Avete dovuto pagare l'ingresso? Bir cesa ödemeniz gerekti mi? Avete dovuto pagare una multa? Avete dovuto pagare una multa? Kim vedalashmak zorundaydı? Da chi ha dovuto accomiatarsi? Kim eve erken gitmek zorundaydı? Chi ha dovuto andare a casa presto? Kim trenle gitmek zorundaydı? Chi ha dovuto pagare l'ingresso? Chi ha dovuto pagare l'ingresso? Uzun kalmak istemedik. Non volevamo restare a lungo. Non volevamo restare a lungo. Bir şey içmek istemedik. Non volevamo bere niente. Rahatsız etmek istemedik. Non volevamo disturbare. Non volevamo disturbare. Şimdi telefon etmek istedim. Volevo solo telefonare. Volevo solo telefonare. Bir taxi çağırmak istedim. Volevo chiamare un tassi. Volevo chiamare un tassi. Çünkü eve gitmek istiyordum. Infatti volevo andare a casa. Infatti volevo andare a casa. Hanımına telefon etmek istedini zannediyordum. Pensavo che tu volessi telefonare a tua moglie. Pensavo che tu volessi telefonare a tua moglie. Bilinmeyan numaraları aramak istiyorsun zannediyordum. Pensavo che tu volessi chiamare le informazioni. Pensavo che tu volessi chiamare le informazioni. Bilpiza smarlamak istedini zannediyordum. Pensavo che tu volessi ordinare una pizza. Pensavo che tu volessi ordinare una pizza. Mio figlio non voleva giocare con la bambola. Mio figlio non voleva giocare con la bambola. Kızım futbol oynamak istemiyordu. Mia figlia non voleva giocare a pallone. Mia figlia non voleva giocare a pallone. Karım benimle satranç oynamak istemiyordu. Mia moglie non voleva giocare a scacchi con me. Mia moglie non voleva giocare a scacchi con me. Çocuklarım gezintiyapmak istemiyordu. I miei figli non volevano fare una passeggiata. Odayı toplamak istemiyordu. Non volevano riordinare la camera. Non volevano riordinare la camera. Yatmak istemiyordu. Non volevano andare a letto. Non volevano andare a letto. Onun dondurma yemesine izin yoktu. Lui non poteva mangiare il gelato. Lui non poteva mangiare il gelato. Onun çikolata yemesine izin yoktu. Lui non poteva mangiare il cioccolato. Lui non poteva mangiare il cioccolato. Onun şeker yemesine izin yoktu. Lui non poteva mangiare le caramelle. Lui non poteva mangiare le caramelle. Bir dilekte bulunmama izin vardı. Ho potuto esprimere un desiderio. Kendime bir elbise almama izin vardı. Ho potuto comprarmi un vestito. Ho potuto comprarmi un vestito. Bir fondan almama izin vardı. Ho potuto prendere un cioccolatino. Ho potuto prendere un cioccolatino. Ucciakta sigara içmen servest miydi? Potevi fumare in aereo? Potevi fumare in aereo? Hastanede birra içmen servest miydi? Potevi bere la birra in ospedale? Potevi bere la birra in ospedale? Köpeği otele alman servest miydi? Potevi portare il cane in albergo? Potevi portare il cane in albergo? Tátilde çocukların uzun süre dışarda kalmalarına izin vardı. Durante le vacanze i bambini potevano restare a lungo fuori. Auluda uzun süre oynamalarına müsaade vardı. Loro potevano giocare a lungo nel cortile. Loro potevano giocare a lungo nel cortile. Gece uzun süre uyanık kalmalarına müsaade vardı. Loro potevano restare svegli fino a tardi. Loro potevano restare svegli fino a tardi. Çok tembelsin. O kadar tembel olma. Tu sei così pigro. Non essere così pigro. Tu sei così pigro. Non essere così pigro. Çok uyuyorsun. O kadar uyuma. Tu dormi tanto. Non dormire tanto. Tu dormi tanto. Non dormire tanto. Çok geç geliyorsun. O kadar geç gelme. Tu arrivi così tardi. Non arrivare così tardi. Tu arrivi così tardi. Non arrivare così tardi. Çok sesli gülüyorsun. O kadar sesli gülme. Tu parli così a bassa voce. Non parlare così a bassa voce. Tu parli così a bassa voce. Non parlare così a bassa voce. Çok fazla içiyorsun. O kadar çok içme. Tu bevi troppo. Non bere tanto. Tu bevi troppo. Non bere tanto. Çok fazla sigara içiyorsun. O kadar çok sigara içme. Tu fumi troppo. Non fumare tanto. Tu fumi troppo. Non fumare tanto. Çok fazla çalışıyorsun. O kadar çok çalışma. Tu lavori troppo. Non lavorare tanto. Çok hızlı gidiyorsun. O kadar hızlı gitme. Tu vai troppo forte. Non andare così forte. Tu vai troppo forte. Non andare così forte. Ayağa kalkınız, bai Müller. Si alzi, signor Müller. Oturunos, bai Müller. Si accomodi, signor Müller. Kalkmayınız, bai Müller. Resti seduto, signor Müller. Saberlo olunos. Abia pazienza. Kendinize zaman airan. Faccia con comodo. Bir saniye bekliyiniz. Aspetti un moment. Aspetti un momento. Dikkatli olunos. Faccia attenzione. Faccia attenzione. Dekik olunos. Sia puntuale. Sia puntuale. Abda la olmayınos. Non sia stupido. Non sia stupido. Threshold. Fatti la barba. Fatti la barba. You can. Lavati. Lavati. Taran. Pettinati. 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 Telefon et. Telefon edin. Telefonami. Mi telefoni. Telefonami. Mi telefoni. Başla. Başlayin. Comincia. Cominci. Comincia. Cominci. Bırak. Bırakın. Smettila. La smetta. Smettila. La smetta. Yapma. Yapmayın. Lascia stare. Lasci stare. Lascia stare. Lasci stare. Söyle. Söyleyin. Di questo. Dica questo. Di questo. Dica questo. Bunu satın al. Bunu satın alın. Compra questo. Compri questo. Compra questo. Compri questo. Asla eğri olma. Non essere mai disonesto. Non essere mai disonesto. Asla küstah olma. Non essere mai impertinente. Non essere mai impertinente. Asla saygısız olma. Non essere mai scortese. Non essere mai scortese. Sì. Daima dürüst ol. Sì. Sempre sincero. Sì. Sempre sincero. Daima cana yakın ol. Sì. Sempre carino. Sì. Sempre carino. Epp kibar ol. Sì. Sì. Sempre gentile. Sì. Sempre gentile. Sağ salim eve varın. Buon ritorno a casa. Buon ritorno a casa. Kendinize dikkat edin. Abbi a cura di sé. Abbi a cura di sé. Yakında bizi yine ziyaret edin. Ritorni a trovarci presto. Ritorni a trovarci presto. Hava belki yarın daha iyi olur. Forse domani il tempo sarà migliore. Forse domani il tempo sarà migliore. Bunu nereden biliyorsunuz? Come fa a saperlo? Come fa a saperlo? Daha iyi olmasını umut ederim. Spero che migliori. Spero che migliori. O mutlaka gelecek. Viene sicuramente. Viene sicuramente. Kesinme. È sicuro? È sicuro. Geleceğini biliyorum. So che viene. So che viene. O mutlaka telefon ed ash. Telefona sicuramente. Telefona sicuramente. Sai me? Veramente. Veramente. Telefon ed igieni zannidiorum. Credo che telefoni. Credo che telefoni. Bu şarap muhakkak ki eskidir. Il vino è certamente invecchiato. Il vino è certamente invecchiato. Bunu tam olarak biliyor musunuz? Lo sa di sicuro? Lo sa di sicuro? Eski olduğunu tahmin ediyorum. Suppongo che sia invecchiato. Suppongo che sia invecchiato. Şefimiz yakışıklı. Il nostro titolare ha un bell'aspetto. Il nostro titolare ha un bell'aspetto. Öyle mi buluyorsunuz? Lei trova? Lei trova? Hatta çok yakışıklı olduğunu düşünüyorum. Trovo che abbia addirittura un ottimo aspetto. Trovo che abbia addirittura un ottimo aspetto. Şefin mutlaka bir kız arkadaşı vardır. Il titolare ha certamente un'amica. Il titolare ha certamente un'amica. Gerçekten inanıyor musunuz? Lo crede veramente? Lo crede veramente? Bir kız arkadaşı olması muhtemel. È molto probabile che abbia un'amica. È molto probabile che abbia un'amica. Orlaman beni kızdırıyor. Mi secca che tu russi. Mi secca che tu russi. Bu kadar çok bira içmen beni kızdırıyor. Mi secca che tu beva tanta birra. Mi secca che tu beva tanta birra. Bu kadar geç gelmen beni kızdırıyor. Mi secca che tu venga così tardi. Mi secca che tu venga così tardi. O'nun bir doktora ihtiyacı olduğunu zannediyorum. Credo che abbia bisogno di un medico. Credo che abbia bisogno di un medico. O'nun haste olduğunu zannediyorum. O'nun hasta olduğunu zannediyorum. Credo che sia malato. Credo che sia malato. O'nun şimdi uyuduğunu zannediyorum. Credo che adesso dorma. O'nun kızımızla evleneceğini ümit ediyoruz. Speriamo che sposi nostra figlia. Speriamo che sposi nostra figlia. O'nun çok parası olduğunu ümit ediyoruz. Speriamo che abbiya molti soldi. O'nun milionaire olduğunu ümit ediyoruz. Speriamo che sia milionario. Hanımının bir kaza geçirdiğini duydum. Ho sentito che tua moglie ha avuto un incidente. Ho sentito che tua moglie ha avuto un incidente. O'nun hastanede yattığını duydum. Ho sentito che è all'ospedale. Arabanın tamamen hurda olduğunu duydum. Ho sentito che la tua macchina è completamente distrutta. Ho sentito che la tua macchina è completamente distrutta. Geldi iniz e sevendim. Mi fa piacere che sia venuto. Mi fa piacere che sia venuto. Il ghi duydun usa sevendim. Mi fa piacere che abbia interesse. Mi fa piacere che abbia interesse. Evi almak istemenize sevendim. Mi fa piacere che voglia comprare la casa. Mi fa piacere che voglia comprare la casa. Son autobüsün kalkmüş olmasından korkuyorum. Temo che l'ultimo autobus sia già passato. Temo che l'ultimo autobus sia già passato. Temo che dobbiamo prendere un tassi. Temo di non avere denaro con me. Temo di non avere denaro con me. Non so se mi ama. Non so se mi ama. Geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum. Non so se ritorna. Non so se ritorna. Beni arayıp arayıp aramayacağını bilmiyorum. Non so se mi telefona. Non so se mi telefona. Acaba beni seviyor mu? Chissà se mi ama. Chissà se mi ama. Acaba geri gelecek mi? Chissà se ritorna. Acaba beni arayacak mı? Chissà se mi telefona. Onun beni düşünüp düşünmediğini kendime soruyorum. Mi chiedo se mi pensi. 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 Acaba o beni düşünüyor mu? Chissà se mi pensa Acaba onun başka bir sevdiği var mı? Chissà se ha un'altra Acaba o doğruyu söylüyor mu? Chissà se dice la verità Onun benden gerçekten hoşlandığından şüphe duyuyorum Dubito che mi voglia veramente bene Dubito che mi voglia veramente bene Onun bana yazacağından şüphe duyuyorum Dubito che mi scriva Dubito che mi scriva Onun benimle evleneceğinden şüphe duyuyorum Dubito che mi sposi Dubito che mi sposi Acaba o benden gerçekten hoşlanıyor mu? Chissà se mi ama veramente Chissà se mi ama veramente Acaba o bana yazacak mı? Chissà se mi scrive Acaba o benimle evlenecek mi? Chissà se mi sposi Chissà se mi sposi Chissà se mi sposi Ya amor durana kadar bekle Aspetta finché smette di piovere Aspetta finché smette di piovere Ben hazır olanakadar bekle Aspetta finché ho finito Aspetta finché ho finito O geri gelene kadar bekle Aspetta finché lui torna Aspetta finché lui torna Aspetta finché Aspetta finché ho finito Aspetta finché month Aspetta finché nel screen sia terminato. Işık yeşil yanıncaya kadar bekliyorum. Aspetto che il semaforo sia verde. Aspetto che il semaforo sia verde. Ne zaman tatile gidiyorsun? Quando vai in vacanza? Quando vai in vacanza? Yaz tatilinden daha önce mi? Ancora prima delle vacanze estive? Evet, yaz tatili başlamadan daha önce. Sì, prima che comincino le vacanze estive. Kış başlamadan çatıyı onar. Ripara il tetto prima che cominci l'inverno. Ripara il tetto prima che cominci l'inverno. Masaya oturmadan ellerini yıka. Lavati le mani prima di sederti a tavola. Lavati le mani prima di sederti a tavola. Dışarı çıkmadan jamı kapat. Chiudi la finestra prima di uscire. Chiudi la finestra prima di uscire. Eve ne zaman geleceksin? Dışarı çıkmadan sonra? Quando vieni a casa? Dışarı çıkmadan sonra? Dışarı çıkmadan sonra? Dışarı çıkmadan sonra? Evet, ders bittik tan sonra. Sì, dopo che le lezioni sono finite. Sì, dopo che le lezioni sono finite. O kazâ geçirdik tan sonra artık çalışamadı. Dopo l'incidente, non ha più potuto lavorare. Dopo l'incidente, non ha più potuto lavorare. O işini kaybettik tan sonra Amerika'ya gitti. Dopo aver perso il lavoro, è andato in America. Dopo aver perso il lavoro, è andato in America. O Amerika'ya gitti tan sonra zengi noldu. Dopo esser andato in America, è diventato ricco. Dopo essere andato in America, è diventato ricco. Dopo aver perso il lavoro.